Un bicchiere di acqua San Gemini. Questo è il giudizio di Luciano D'Alfonso in merito ai 14 milioni di euro presentati dal centro-destra abruzzese come soluzione al contenzioso che dura da 40 anni sugli espropri per lo sviluppo dell'asse attrezzato, l'emendamento di bilancio di fine anno. 7 milioni per il 2023 e 7 per il 2024 che faranno maturare ulteriori interessi per gli aventi diritto a risarcimento e c'è un secondo problema, un rischio secondo D'Alfonso per l'asse attrezzato quello della pedagizzazione. Quindi noi dobbiamo procedere con un recupero adeguato di risorse finanziarie per definire tutti i contenziosi e dobbiamo fare in modo che quando l'ANAS diventa l'univoco proprietario, l'ANAS accetti impegno a non pedagizzare. E poi c'è bisogno di un ufficio, di una figura commissariale che si faccia carico di definire una per una tutte le situazioni pendenti senza lasciarne una fuori. Qualche errore è stato già fatto dal consorzio industriale tra il 1991 e il 2001, versarono solo 3 miliardi e mezzo di lire lasciando fuori una serie di espropriati. E' venuta fuori un'ulteriore situazione di contenzioso maturata, definita, con sentenza passata e ingiudicato ad opera dell'avente diritto Istituto Donorione per 1.640.000 euro più interessi correnti. La ricetta, o meglio la sua cassetta degli attrezzi per dirla con le parole dell'onorevole del PD, evidenzia un altro finanziamento, quello da 15 milioni di euro assegnati con delibera Cipe numero 25 del 2016 e la data dice tutto. Si tratta di fondi ottenuti per l'allungamento dell'astrezzato durante i 1.500 giorni di giunta da Alfonso. Non buttiamo via le economie. L'appello va al Comune di Pescara per fare donazioni a operatori privati che hanno le terre dalle parti dello svincolo a Trombetta. Grandi servizi di quest'area metropolitana sono il Tribunale e l'Università e lo abbiamo fatto con lo svincolo di Via Tirino. Adesso manca la realizzazione riguardante lo svincolo di Colle Caprino. Servono almeno allo Stato con l'aumento dei prezzi 25 milioni di euro. La storia dell'assi attrezzato è una storia di letture sbagliate, di superficialità di letture e anche di teste che guardavano altrove pur avendo precisi compiti di governance e di amministrazione.